Elga e Nardu e Diego Daddi sono tornati insieme. Ad annunciarlo sono stati gli stessi ex volti di uomini e donne sui propri profili social. Il primo a dare la notizia è stato Diego. Condividendo sulle sue storie di Instagram una foto insieme alla moglie in cui appaiono felici ed innamorati. Con S. L'amore è mancarsi. Prima di incontrarsi. A volte anche dopo. Ma ritrovarsi sempre. Ovviamente. La storia ha subito fatto pensare ad un ritorno di fiamma tra i due. Ma. Nel caso ci fossero anche dubbi. Ci ha pensato Elga a chiarire una volta per tutte la situazione. L'ex tronista ha infatti condiviso un video sempre sul suo profilo Instagram. Confermando la rapacificazione con il marito. Ecco le sue parole riportate da Isechi. Vi volevo comunicare con la semplicità che questo momento merita. Con la massima delicatezza. Vi volevo dire che sto iniziando un rapporto con Diego. Non è mai finito il nostro rapporto dal punto di vista della comunicazione. Dell'aiutarsi a vicenda. Sono sempre stata molto chiara. Però da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può assolutamente avere una seconda chance. E quindi sono molto felice di comunicarvi questo. Dunque. Per la felicità dei loro fans. Elga e Diego hanno deciso di darsi una seconda possibilità e salvare. Così. Il loro matrimonio. Come ha spiegato l'ex tronista. In realtà. I due non hanno mai smesso di sentirsi. In una sua recente intervista a casa SDL. La gemella di Serena Enardu aveva infatti ammesso di parlare quotidianamente con il marito nonostante la rottura. Inoltre. Durante una delle sue ultime dirette Instagram. Aveva anche confessato di sperare in un ritorno. Dato l'amore puro e incondizionato che ancora provavano.